musica 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 si buono dai ragazzi prego facciamo figure in merda io lo sento già quale hai registrato quella di prima o questa? questa inizia ma che bastardo quella che l'ho fatta bene prima io adesso voglio in merda nessuno lo farò io se voglio lo faccio io ma te prendo un rock di solito perchè vedo che ormai è diventato una classe base senza rock no rock no win io che faccio rock se prendo armatura ci vogliono un caricatore ci vogliono tre colpi di cecchino o quattro per tirarmi giù se no mi prendono in testa se mi prendono in testa forse un po' di merda ti prendono sempre in testa invece d'alti ai jeans è proprio casual io della serie vado in guerra ma è come se fossi a casa a giocare ahahah ahahah quello che manda joystick quello è un tipo una pompa automatica tramite la pompa e poi e poi risucchia cazzo succede perché non funziona Mark sarà per piacere ti prego non iniziare per favore non è che ti becchiamo di nuovo in bagno a farti le seghe andiamo ragazzi le metto qua le cose le corazze le corazze un po' a me aiutatemi da sti scatti non capisco perché cazzo cosa intendi è buono tipo si blocca per un millesimo di secondo tipo e allora io mi piazzo fuori come al solito Mark se devi entrare entra perché chiudo qua hanno trovato l'obiettivo? no 5 secondi ma cazzo è facile adesso mettere il coso qua me lo metto per tardi ottimo lavoro la posizione dell'ostaggio rimane ignota ad assistivo in posizione non posso mettere gli amici arrivano sono qua sopra Matte di noia le granate ormai non sono più un problema va da noi anche ragazzi occhio al corridoio occhio al corridoio stanno entrando qua dove sono io? qua sopra si stanno entrando qua proprio metto ancora il puntino l'ho preso l'hai preso tu bravo pensavo parla a sparassometto come fa a vedermi bravissimo Matte sono sopra c'è le scale bisogna risalire Matte aspetto no aspetta aspetta oh 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 anche qua a sinistra arrivano eh tu copri le scale che io cerco di coprirti stanno ancora scendendo da lì le scale eh sono qua da noi è la porta lì alla tua destra si ho riflesso e non riesco a vedere ora mamma mia senti i passi è proprio beh anche io proprio attaccato contatto nemico con l'ostaggio le mie piccole sono pronte 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 hanno tirato giù uno dei nostri non so come nella parte delle scale e uno fuori dalla finestra e uno fuori dalla finestra se c'è riesco a visitare hanno sentato a visitare lago sopra eh e hanno preso quello che stavano nelle scale c'è uno a sinistra nella finestra dove c'è l'ostaggio e un altro sarà dall'altra parte in casa credo l'altro è fuori bravo l'altro è fuori bello bello fatto mamma mia sentivo passi non capisco più il cazzo ahahah ahahah oddio brrrr ahahahahah è stata lunga però questa eh eh si è durata proprio fino a CICCHI MASTARDE BOPPA è stato boba allora vado vado di termite a meno che vuoi farlo tu matta e termite no io faccio blitz ok questo per me è uguale eh siiii mi ha inculato lo sledge volevo martellare ovunque io mi piace mi piace tenere i mani i martelli mi piace che cazzo mi piace mi piace mi piace i droni della parrot qui oh oddio cazzo madonna ce l'hanno qui proprio che ha messo le mine dove è? ha messo le mine un'entrata dove è... aiutò mamma mia ah ah cercatemi di trovare l'astaggio ragazzi eh non l'ho trovato è giù sotto in mezzo alla sala e non è qua noi siamo noi adesso dietro hai ragione ma sto qua a posto di cercare... l'ha trovato 5 secondi all'inserimento oh c'è anche tatanka avete visto bravo stavo per dirlo io bravissimo però il tatanka possiamo spudellarlo dal dietro eh allora si è distrutta è distrutta l'arche la cosa bravo arcadino eh cosa vuoi fare? ehm io entrerei da sotto occhio occhio che ha aperto bob eh apri allora c'è aspetta apro qua perchè c'è il check esatto ehm aspetta io c'ho l'esplosione ah vai 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 tu ah no beh è arrivato neanche uno sledge eh qualcuno prova da me che abbiamo anche da una porta differente hanno aperto una finestra qua sopra eh drone operativo passo da un piano sopra io so dove sono i bersagli piano terra ma no 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 ma porca puttana come cazzo ha fatto a vedermi subito uno un po' sparsi eh dov'è Paolo a posizione di quello? ehm praticamente penso si avvicino all'ostaggio con uno scudo qualcuno da me mi serve matex facciamo un giro da là qua c'è chi lo spara a caso o c'è stato individuato c'è stato individuato ma c'è stato individuato allora tu matte 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 matex ooo di Darko che ci sono anche uno spara dove sei tu sono davanti a te Darko guarda dove sei c'è twitch e' dentro e' uno con questa stanza no testo sono io bravo e non sei davanti a me cosa nooo perchè perchè idiota questo ma è scemo che sfigato di merda comunque dark era davanti a te alla fine si ok però pensavo che l'avessi già ammazzato invece era ancora lì che sfigato di merda l'unica cosa che non doveva fare l'avremmo vinto l'ha fatta è rimasto uno di loro e basta è ben regalata la partita così questi qua sono i piccoli bimbi deficienti che devono per forza distruggere quando si deve salare l'ostaggio si sa che non tocca usare dei cazzo di esplosivi punto no guarda si che tra l'altro è lo stesso stizio non so che cazzo insomma ah no non è lo stesso stizio però vabbè uno sta usando smoke potete usare anche magari qualcun altro però siamo qua bravissimo cazzo c'entra bad luck cosa che ha lanciato una granata cioè mi metto un piano di sopra ragazzi si perchè loro molto probabilmente potranno anche entrare qua da sotto io da sopra spacco la finestra guardo sotto per il cerchio ho comune 3 5 secondi bastano 5 secondi e non che sopra contatto nemico l'ottaggio ingresso è sicuro no spero testo chiudi però no no vai tu no no chi tu e non è un'altra dark cazzo bisogna che mi piazza anche io però qua a destra passano si è che si sta già sparando così di fretta si sta steso uno sono tutti lì sono ancora lì? si mi sa due due si ma vaffanculo ma non ci credo mi sono saltato in testa mi ha sentito in testa proprio sono un il termite è ancora lì proprio fuori che cazzo allora matt tu sei lì allora uno c'è lì proprio davanti a quella cosa di corazzata che è davanti a che è avanti a l'altro è rimasto che è anche l'altro bravo bravo per un momento da me ha trapassato lo scudo di ferro non so come ha fatto poi lo rivedremo nel video perchè ha fatto morire io ero lì così poi sono entrato poi è riuscito non so come così chino mio yes allora dovevi vedere quella di prima sparava a caso nei muri con l'ostaggio davanti ma povera roba da pazzi poi sul cecchino non ci va mai sul silenziatore il cecchino deve essere one shot one kill bam 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 basta si è sicuramente preso il cecchino al piano di sotto ma guarda che ti dirò che il cecchino anche a corta distanza vinci ma se lo prendi perchè lo one shot questo recluta e vabbè avrà solo il cecchino la collo di prima allora avrà solo il cecchino probabilmente ecco ancora il lag insomma poi sono in sta mappa sono sopra sopra sono di sopra è buono buono ottimo sia faccio un macello di sopra oddio posso mettermi nelle mani del tizio buono li ho sputtati praticamente tutti no no ma nessuno cazzo allora se mi aprite la finestra mi aprite la finestra che andati fuori su l'ostaggio c'è il tatanka eh te portami inserimento tra cinque secondi dici dove io te la mmm postaggio trovato ok telecamera ragazzi allora adesso una qua no qua non me la ricordo ah una qua a destra eccola ecco la qua matte vieni di qua si vive allora aspetta che distruggono altre telecamere sennò capiscono quella la vedo eccola fatta allora aspetta eh allora quello lì sopra quello davanti ah nooo sbagliato sbagliato non è questa finestra ah ma tu hai la termite no però vabbè ho le cariche esplosive ugualmente ah buono ecco se hai le cariche esplosive ecco se mi apri questa faccio un macello che adesso salto su qua dietro ma che palle bravo vado eh quando vuoi vai eh non sono davanti alla finestra vivo eh eh non è qua davanti eh faccio andare dall'altra parte adesso cerco di fare una guarda eh vedere c'era c'era uno qua dietro guarda che stronti c'era uno qua dietro guarda che stronti matex non sono sicuro che sono tutti e quattro lì dentro eh non sei sicuro? di sicuro lì davanti a matex occhio certo ma c'è il... nuovo caricatore ah è qua c'è che va spara dietro 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 d'hark mi sa dietro qua dove cazzo mi sta sparando qua aaaaaa cazzo non li vedeva erano invisibili dai attaccato la porta c'è un buco dove possono sparare ecco ma abbiamo buttato giù a destra dietro l'armadio ce n'è uno a destra ancora più a destra dove c'è la porta di metallo c'è un buco attaccato al muro piccolo dove ci sono due tizi che ti sparano da lì oh ok dietro di te hanno fatto saltare qualcosa aspetta eh pensavo avessero fatto saltare la porta che è qua a destra no 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 eh sono tutti e due la dentro a destra ok no no non lì non lì dove? vedi quel buco lì non è ok occhio eh non è non ti possono sparare neanche si si ti possono sparare fidati mi hanno ucciso me eh eh da lì c'è l'altro che ti ne d'occhio non l'ho già steccato da qui no ce n'è uno che è tutto sulla destra dietro l'armadio praticamente nooo nooo fate che sono tutti e due lì dentro in quel buco lì eh adesso ho sentito il rampino niente fa niente guarda eh sono usciti eh eh te l'ho detto che ti sparavano dal video eh l'ho tentata avevo venti secondi e guarda guarda come fanno a vedere spiegami come fanno eh si come fanno a vedere? c'è il muro no si vede hai visto il corpo che arrivava eh? io l'ho visto il muro chiuso anch'io eh allora ci avete buggato eh io quando ho guardato dentro per questo ho detto impossibile che mi sparano da lì eh vedevo nero dentro io lì dentro non potevo vedere l'altra stanza ma dai no io li vedevo che ti sparavano e ho provato a spararli ma no 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 io quando prima della morte eh ho guardato a destra no no dicevo no dicevo anche a matex che gli sparavano io li ero dietro e ho cercato di andare più vicino per spararli ma non ci sono proprio dai ragazzi eh non diamogli il culo ma che cazzo siamo finiti adesso? vabbè è stata più merda eh si questa quella stanza è di merda infatti entra non ho partito roma 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 Siamo a 10 secondi Non l'hanno trovato Non l'hanno trovato Posizione ostaggio è sicura Siamo sullo stesso piano Camperato dietro l'armadio Non l'ho visto Versagli individuati Ecco entrano proprio da me Non li uccido subito Sono in tre Li vedo sulla finestra Ok ok Oh cazzo è entrato Attivo sensore È già entrato bastardo Uno l'ho preso da lì Uno dove entrava non l'ho preso Ultimo difensore è rimasto in vita Se rimani in questa zona Ti scoprirà Ti hanno visto Ah io lo tiro fuori È uscito in pre-fire su di me in un posto impensabile Dove è? In pre-fire E nella stanzetta dove sono morto io È morto è morto È uscito in pre-fire nel macchino dove ero io Che infamale Madonna Questa qua proprio l'ha sciottata Io lo tiro l'armadio giù in fondo Dietro l'armadio giù in fondo Infame Maledetto Io ce l'ho fatto il giro alla fine L'ultimo round non ho fatto niente Praticamente Non ho sparato neanche un culo Io ho sciottato una persona in testa Quando era dietro un riparo Non so quanto possibile Io ho solo l'arma e l'ho sciottata in testa Poi dobbiamo fare affronta di nuovo un match L'ho fatto ma non mi fa votare Poi dobbiamo fare affronta di nuovo un match